Vicenza, 50 anni, è trovata priva di vita in casa. La donna da giorni non dava notizie di sé, così alla fine i familiari hanno deciso di farle visita. Una volta aperta la porta di casa, hanno provato a chiamarla senza risposta. Poi, la triste scoperta, la 50 anni era riversa a terra, nel bagno dell'appartamento. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, una volante della polizia si è recata sul posto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto sembra che la donna abbia avuto un malore e cadendo abbia sbattuto la testa, riportando varie ferite da trauma al capo.